Da una parte il rumore della piazza, dall'altra il silenzio della proprietà istantanei del weekend in casa Barletta Calcio, sabato pomeriggio in concomitanza con la sosta del campionato di Serie D, più di mille tifosi hanno attraversato le vie della città, colorandola di bianco-rosso con maglie, bandiere e striscioni e uniti nel tentativo di manifestare dissenso rispetto all'attuale gestione societaria. Un corteo pacifico partito da via d'annunzio alle spalle della tribuna centrale dello stadio Puttilli, impianto che domenica prossima ospiterà la sfida casalinga al Matera e conclusa nel centro cittadino. Un movimento convocato sui social e con appelli da parte della tifoseria che ha generato la volontà di trasformare in unità di intenti il sentimento di frustrazione per il percorso di una squadra passata dal sogno promozione della scorsa stagione all'incubo retrocessione dell'annata in corso. I risultati scadenti ottenuti da Schelotto e compagni, appena tre punti nelle ultime 11 partite di campionato, vittoria che manca dal 12 novembre 2023 grazie al 3-2 sul Gravina, uniti ai tiri e molla sul futuro societario con botta e risposta trascesi anche sul web tra potenziali acquirenti e proprietà, non hanno scalfito la passione della piazza di Barletta, capace quest'anno di primeggiare su tutte le altre realtà dei nove gironi di serie D per numero di abbonati più di 3.000, ma hanno suscitato una richiesta di chiarezza, quella che nella stagione 2023-2024 non si è mai vista sul campo e fuori sin dai primi battiti. L'appello agli attuali vertici societari, già contestati con uno striscione esposto in occasione del K.O. del 28 gennaio contro il Nardò, è chiaro, spiegare quale sarà il futuro dei colori bianco-rossi e quali saranno le prospettive, magari interrompendo un silenzio che perdura dal 16 dicembre, data in cui si annunciava in una conferenza convocata in fretta e furia un'intesa di massima con Michele Di Benedetto per il cambio di asset societario, intenzione sbandierata ai 4-20, ma mai realizzata. Le ultime cronache raccontano di un Di Benedetto che si è defilato ufficialmente, del dialogo mai interrotto con Francesco Di Vittorio, l'anno scorso vicepresidente bianco-rosso, e di una serie di voci senza conferme che si susseguono. Nel mezzo c'è una squadra chiamata a risollevarsi dopo la sconfitta per 2-0 a Bitonto, patita prima della sosta del torneo senza nemmeno lottare e che nel 2024 non ha ancora segnato. All'allenatore Salvatore Ciullo, chiamato a raccogliere i cocci di un gruppo che ha perso certezze con il passare delle settimane, la ricerca della giusta ricetta per venire fuori dalla crisi tecnica che ha condotto il Barletta, a un solo punto dalla retrocessione diretta.